Il dopo crollo di Palazzo Loiacono Maraventano è costato alle casse del Comune dei Grigeddo 405 mila euro. Al momento però Palazzo dei Giganti è uscito solo 100 mila euro per pagare alberghi e bed and breakfast che hanno ospitato gli spollati delle abitazioni ricadenti nell'area del crollo e o di quelli sgomberati su ordine del Sindaco Zambuto. Dati e cifre che il Sindaco ha presentato alla protezione civile in una relazione analitica su quando compiuto. Siamo intervenuti come Comune da un lato spendendo circa un milione di euro per rimettere in sicurezza gli immobili dall'altro lato il costo di 405 mila euro nei confronti dei privati che sono stati costretti ad allontanare le proprie abitazioni dall'aprile dello scorso anno a oggi lo stiamo sostenendo noi abbiamo chiesto la partecipazione alla protezione civile lo stiamo sostenendo con il nostro bilancio. E' chiaro che ci troviamo dinanzi in una situazione in cui se non c'è il privato che partecipa nel mettere in sicurezza il proprio immobile, la propria casa, tutto viene scaricato alla mano pubblica. E nonostante le spese sostenute per le 37 famiglie residenti nell'area del crollo di Palazzo Loià con i tempi del rientro nelle proprie abitazioni si allungano sempre più. Anche lì noi siamo intervenuti in sostituzione dei privati e abbiamo fatto i primissimi interventi. Dopo questi primi interventi oggi occorre fare altri interventi rispetto ai quali anche lì è necessaria la mano del privato. Ora io sto attendendo questa relazione per comprendere che livello di sicurezza abbiamo per poter finalmente riaprire le strade e poter riportare alla normalità quel quartiere. E sul fronte della situazione della cattedrale per martedì 20 marzo prossimo imbriamo un vertigio a Palermo con la protezione civile. Abbiamo giorno 20 una riunione a Palermo dove la protezione civile, il Dipartimento di Protezione Civile regionale ci dovrà notiziare su quelli che sono gli esami, i rilievi, gli studi che sono andati avanti per vedere qual è la situazione del costone su cui poggia la cattedrale. Lei ogni tanto ci pensa alla possibilità purtroppo che questo costone porti via un pezzo di storia della città. Ma guardi purtroppo questa è una vicenda che ci angoscia. Questo versante non si era studiato veramente quale fosse la sua condizione. Si prendevano i soldi e si andava a investire lì senza sapere in realtà la causa e su che cosa si interveniva.